Tutto inizia con un comunicato. Il 24 marzo del 1976 le forze armate prendono il potere con un golpe militare. A capo del governo va il generale Videla e l'annuncio della dittatura in Argentina che portò a 30.000 desaparecidos, persone scomparse, arrestate per motivi politici o solo perché accusate di attività antigovernative. La scrittrice argentina Josefina Giglio è la di una coppia desaparecida e in Io l'ho amata, edito dalle commari, fa rivivere la vicenda di sua madre e suo padre attraverso tre voci. Questo libro è per me soprattutto una storia d'amore, la storia d'amore dei miei genitori. Ho voluto raccontare gli anni giovanili di mia madre prima che diventasse una desaparecida. Il romanzo è diviso in quattro parti, perché ha scelto di raccontarlo con più voci. Nessuno sa la storia completa dei propri genitori. I figli dei desaparecidos ne sanno ancora meno. Non riusciamo mai a sapere fino in fondo quello che accadde ed ho quindi pensato di poter dire meglio quanto si sapeva o non sapeva di questa donna con più voci. All'inizio e alla fine del romanzo c'è Riccardo Piglia, il nodo critico e scrittore argentino che ebbe una relazione con Vibel, la mamma dell'autrice. Come vive oggi l'Argentina in ricordo dei desaparecidos? Siamo in un momento politico molto complesso, perché il nuovo governo non è negazionista. Direttamente rivendica il genocidio, rivendica le azioni delle forze armate durante la dittatura. E quindi mi pare che è ancora più necessaria la memoria e che grazie alla potenza della letteratura questa storia si conosca.